prima di tutto vorrei ringraziarvi per essere invitato a questa assemblea degli iscritti individuali alla sinistra europea mi fa un grande piacere di vedere in questa sala tutti e tutti e non solo sullo schermo come nell'ultimo tempo per questo mi fa veramente un gran piacere credo che questo dibattito che voi fate è molto importante perché abbiamo adesso una situazione sicuramente nuova da quanto riguarda la situazione europea creata in particolare dalla invasione russa in ucraina io ho scritto forse lo potete vederlo ho scritto un articolo per left con il titolo una grande sfida per la sinistra europea credo veramente che noi abbiamo stiamo di fronte di una situazione nuova è veramente una grande sfida per la sinistra europea perché adesso dopo la pandemia con le sue conseguenze drammatiche per quanto riguarda l'economia per quanto riguarda la situazione sociale di cui sono colpiti in particolare i poveri e la gente che vive e lavora sotto le condizioni precarie e adesso anche con la guerra eh sono i poveri e quelli che lavorano e vivono sotto le condizioni precarie che pagano questa guerra si vede per esempio l'effetto per quanto riguarda i prezzi per l'energia che adesso stanno salendo alle stelle non solo in Italia e dappertutto in Europa e abbiamo una situazione veramente drammatica e per quanto riguarda la guerra è chiaro che una sfida per la sinistra europea siamo tutti tutti tutta la sinistra europea condanna chiaramente questa invasione russa che non può essere giustificata per niente neanche con l'espansione della nato all'est che ritengo molto pericoloso però questo non può giustificare questo attacco russo e in questo tutta la sinistra europea è abbastanza chiaro anche per quanto riguarda il riarmo e l'impegno per la pace però ci sono anche delle divisioni per quanto riguarda la sinistra europea questo riguarda in primo luogo la consegna di armi l'invio di armi ci sono quelli che sono veramente a favore in particolare i compagni danesi sono molto a favore per quanto riguarda le forniture delle delle armi noi come tedeschi la maggioranza diciamo siamo contro anche per quanto riguarda le sanzioni ci sono divisioni e posizioni diversi siamo quasi tutti d'accordo con le cosiddette sanzioni mirate che devono colpire il responsabile e ricchi oligarchi però molto difficile l'effetto di questa situazione perché non è sempre da escludere che queste sanzioni colpiscono anche la popolazione allora la gente normale è un'altra cosa quello che mi preoccupa molto adesso per quanto riguarda la sinistra europea e l'atteggiamento per quanto riguarda la nato c'è secondo me un dis ci sono tanti che sono secondo me e sto qui o me mia opinione personale sono disorientati è chiaro che adesso abbiamo una situazione situazione nuova però non dimentichiamo dimentichiamo anche la politica aggressiva e pericoloso della nato questo come già detto non giustifica l'invasione russa però credo che noi come sinistra dobbiamo essere critici da quando riguarda la politica della nato e non dimentichiamo che questa politica della nato fa parte del della lotta per l'ecemonia nel mondo fa parte del tentativo da parte delle stati uniti di mantenere l'ecemonia mondiale che adesso è in eh discusso in particolare eh eh perché c'è la concorrenza con la Cina credo che questo conflitto questo conflitto militare nell'Ucraina ha anche un aspetto molto importante geopolitico e credo che noi dobbiamo come sinistra anche pensare a questa questa cosa in questa situazione credo che eh è chiaro e questo è chiaro per la tutta la sinistra che ci vuole che abbiamo bisogno di un aiuto umanitario molto forte eh perché questa guerra in Ucraina eh provoca un afflusso di rifugiati enorme di cui ha parlato Stefano eh però non dimentichiamo anche gli altri rifugiati adesso quelli del dall'Ucraina sono in tutti i paesi europei quasi benvenuti però non è questo valido per tutti i rifugiati e la sinistra deve essere a favore all'aiuto a tutti eh rifugiati credo che questo il nostro da avere eh dovere noi dobbiamo eh lottare anche per una soluzione politica e voi avete discusso giustamente anche Alfonso ha detto questo che eh adesso manca una figura di mediazione e noi credo come sinistra dobbiamo lavorare in questa direzione perché la situazione la l'atteggiamento e la politica dell'Unione Europea eh a favore del diciamo della Nato eh non fa non eh gioca un ruolo di eh mediatore credo che ci vorrebbe un tentativo eh forte per fare per mediare per fare una politica di mediazione forse si può eh pensare a un nuovo atto finale finale di Helsinki credo che noi come sinistra dobbiamo discutere quale sarebbe quale potrebbe essere un nuovo sistema di sicurezza per l'Europa credo io sono sempre convinto che noi abbiamo bisogno di un'alternativa per quanto riguarda la la Nato è chiaro noi abbiamo detto sempre vogliamo avere un nuovo sistema di sicurezza collettiva incluso la Russia eh Russia adesso è diventato un po' difficile questo lo so però malgrado di questa cosa nonostante di questa situazione veramente molto difficile veramente eh molto difficile con questa politica di Putin che è una politica molto nazionalista ha niente a che fare con la politica sinistra e molto di destra molto nazionalista molto eh molto pericoloso però nonostante di queste difficoltà ci vuole un tentativo per fare un'altra politica eh per una soluzione politica e di creare un nuovo sistema eh di sicurezza eh collettiva in Europa noi abbiamo avuto il diciotto marzo una riunione eh del consiglio dei presidenti dei partiti della sinistra europei della sinistra europea in questa riunione Arnaldo Otteghi della sinistra eh basca ci ha invitato di fare una conferenza per la pace a Guernica credo che questa è un'idea ottima perché Guernica Guernica è il simbolo per la pace e anche il simbolo per l'antifascismo questo questa conferenza si svolgerà il quattro giugno a Guernica adesso stiamo preparando questa conferenza credo che sia molto importante per tutta la sinistra europea che di questa conferenza viene un messaggio molto chiaro chiarissimo per la pace credo che noi in questa situazione veramente difficile non molto a favore della sinistra noi abbiamo bisogno di una voce forte della sinistra in questa situazione dobbiamo lottare per eh rafforzare la sinistra europea so benissimo che abbiamo una situazione non molto favorevole però dall'altro lato credo che questa situazione ci offra anche la possibilità di rafforzare la sinistra europea per questo apprezzo molto questo dibattito eh eh di oggi con tutti questi elementi è una situazione abbastanza complessa eh eh riguarda tutti questi aspetti credo che noi eh abbiamo anche uno un alcuni punti cruciali per quanto riguarda un'altra politica per Europa per esempio non dimentichiamo che non abbiamo solo la il problema della guerra non abbiamo la la guerra non è solo una eh diciamo una catastrofe umanitaria è anche una catastrofe ambientale e per questo credo che noi con il nostro impegno per trasformare eh l'economia l'industria diciamo di un avere fare una trasformazione sociale ecologica o si può dire anche eh di anche parlare di un Green New Deal della sinistra eh è un dipartito abbiamo questo dipartito siamo tutti coinvolti in questo dipartito credo che questa è una direzione giusta e noi dobbiamo collegare l'impegno per la pace alla lotta eh al cambiamento al cambiamento climatico credo che noi come sinistra abbiamo delle proposte che superano anche il modello neoliberale neoliberale e neoliberista e è molto chiaro che questo non si può fare con una eh economia pure di mercato eh di pure mercato ti vuole un'altra economia con investimenti pubblici eccetera abbiamo delle proposte credo che questo è molto importante per questo credo che le due cose due elementi la pace e il disarmo e la lotta contro il cambiamento climatico con la proposta di una di una eh politica alternativa a quella eh neoliberista sono elementi molto forti per quanto riguarda la politica della sinistra e per questo dobbiamo presentare le nostre proposte e in vista chiaramente delle elezioni europee eh dobbiamo discutere come è stato eh fatto eh come presentarci come sinistra a queste elezioni. Adesso abbiamo una situazione per quanto riguarda il Parlamento Europeo che il il gruppo della sinistra è abbastanza piccolo e non parliamo più della GUE perché la GUE non esiste più c'è adesso la sinistra nel Parlamento Europeo credo che è poca cosa però è una cosa simbolica secondo me e per eh e abbiamo naturalmente in questo gruppo posizioni anche diverse però ci sono anche posizioni molto importanti in comune e ci vuole un dibattito serio che va nel merito delle cose. Io non credo che la questione per quando come si presenta all'elezione sia una cosa diciamo tecnica credo che sia molto politica come si presenta come si presenta con diciamo eh delle candidature su livello europeo non solo nazionale di fare altre cose come eh l'ultima volta e tutto un un dibattito credo che sia molto importante di fare questo dibattito e dobbiamo eh 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 veramente sviluppare il nostro dibattito e il nostro impegno politico. In questa situazione abbiamo una situazione in cui la sinistra europea è molto caratterizzata da divisioni però come già detto abbiamo anche posizioni comuni molti forti e dobbiamo lavorare in questa in questa in questa direzione. Apprezzo molto l'impegno degli iscritti individuali al per la sinistra europea. So che non è molto facile è molto eh non è sempre molto facile come coinvolgere gli iscritti individuali eh nelle attività del partito della sinistra europea. Eh credo adesso arrivano le diciamo le notizie abbiamo grazie all'iniziativa di Paolo Ferrero abbiamo adesso anche una rivista online che si ha queste questioni che credo che eh almeno in Italia eh sia letto in altri paesi di meno eh facciamo questo facciamo questo sforzo e abbiamo eh regolamente anche adesso un eh cosiddetto newsletter con tutti gli eventi e eh della sinistra europea è una base però credo che sarebbe anche possibile di coinvolgere gli iscritti individuali ai lavori del gruppo di lavoro. Credo che i gruppi di lavoro sono veramente eh un elemento molto importante per il funzionamento della sinistra europea però è chiaro che si deve mettersi d'accordo con i coordinatori di questi gruppi di lavoro. Abbiamo parecchi eh abbiamo adesso creato un nuovo gruppo di lavoro eh con il titolo transizione dell'energia e per una nuova politica industriale che è collegato anche eh alle nostre attività che abbiamo svolte al eh eh ventisei adesso siamo anche eh con transform anche siamo eh eh attivi per quanto riguarda il copventi eh eh sette è molto difficile in perché ne cito non è molto facile non è non 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 dire non facile è impossibile di organizzare un contra eh vertice e per questo stiamo discutendo come fare visibile la la voce della sinistra delle forze poche esiste per quanto riguarda la copventi eh ventisette eh però va tutto in questa direzione credo che questo è un è una una scuola cosa molto è un elemento cruciale per la sinistra europea e per questo impegno per un'altra politica eh combinando anche le sfide ecologiche con gli aspetti sociali e di coinvolgere direttamente quelli che sono eh colpiti di questi processi vuol dire i lavoratori diretti coinvolgendo i lavoratori diretti in questi processi. Questo credo che è una discussione una 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 prospettiva che non è male e eh vale la pena di impegnarsi in questa direzione per questo ancora una volta concludendo vorrei dire io apprezzo molto l'impegno degli iscritti in Italia in particolare quando sono molti in Italia però ci sono anche altri però qui in Italia molto forte e credo che ci sono anche possibilità di lavorare insieme dobbiamo in questa situazione intensificare il nostro eh dibattito politico però dobbiamo fare anche delle attività visibili dobbiamo intensificare i nostri sforzi per fare delle campagne in Europa per un'altra politica abbiamo fatto questo con la cosa del vaccinazione eccetera e adesso dobbiamo fare questa cosa assieme al gruppo parlamentare per quanto riguarda per esempio l'energia o la eh la questione della casa è un'altra grande sfida per questo sono nonostante tutte queste difficoltà anche un po' otimista grazie